Sindaco, a quanto pare hanno arrestato i 5 dei 6 malviventi che ieri sera hanno rubato lo scooter al Raider? Come ho scritto stamattina è una vicenda inqualificabile, vergognosa, indegna e criminale. Tutta la mia solidarietà al lavoratore derubato e aggredito, però questa vicenda non deve farci dimenticare che non c'è solo l'episodio criminale, è un fatto di ordinaria criminalità se vogliamo, ci deve far riflettere su come queste persone lavorino in condizioni certe volte anche precarie, difficili e non in sicurezza e anche come la pandemia sta provocando sempre di più una desertificazione delle nostre città e di come sia necessario un maggior controllo del territorio, perché se la gente non c'è per strada le strade rischiano di diventare luoghi di scorribbande criminali, questo l'ho detto sin dal primo momento, da molti mesi e credo che su questo ci sia una sottovalutazione.